tre domande a valerio rosso valerio rosso medico psichiatra psicoterapeuta e soprattutto mi permetto di dire content creator ma questo è perché sono un po di parte perché è la categoria che più che più stimo e oggi caro valerio chiacchieriamo un po di quella che è la tua professione e di come tu declini la tua professione online e con la comunicazione digitale prima di tutto ciao ben trovato ciao andrea è bellissimo essere qua e ti ringrazio davvero per l'invito grazie grazie mille a te è un piacere chiacchierare insieme a te ed è un piacere anche portarvi il punto di vista di un professionista di un professionista molto strutturato che fa anche uno di quei lavori considerati a ragione importanti molto importanti per la società non ci sono lavori di serie a o di serie b però oggi vorremmo anche chiacchierare di quanto parlare online per chi fa il medico ma io dico anche per chi fa l'avvocato per chi fa il notaio per chi fa l'ingegnere insomma per chi fa questi lavori di grande rilevanza di grande entità quanto sia importante o magari no adesso lo scopriremo insieme a te insomma è quello che ti chiederò e allora ti voglio fare tre domande di numero che ci faranno da traccia in questa chiacchierata per per scoprire che cosa ne pensi e per sentirti raccontare il tuo lavoro di creatore di contenuti online tu hai un canale youtube soprattutto hai un podcast poi vi linkeremo nella descrizione di questo video tutti i riferimenti ai tuoi canali in modo che possiate esplorarli anche in modo che possiate sbirciarli io mi permetto di dire soprattutto se siete dei medici o se lavorate nell'ambito di valerio perché potrebbero darvi molto molto spunto per quella che è la vostra professione e allora la prima domanda che ti voglio fare valerio è proprio perché hai deciso di comunicare online cioè tu sei un medico fai il tuo lavoro da psichiatra fai il tuo lavoro da psicoterapeuta immagino che comunque anche a livello economico le entrate non ti manchino eppure hai deciso di investire il tuo tempo e vi garantisco che il tempo non è poco quando si creano contenuti per fare questa cosa quali sono le ragioni beh questa è la domanda che mi sento fare prima ancora che da te da tutti i miei colleghi da tante altre persone perché indubbiamente il medico è una categoria professionale un po' simile a quella che dicevi tu l'avvocato il notaio insomma noi abbiamo una sorta di certa garanzia no di lavorare di avere uno stipendio adeguato eccetera in realtà il mio è un lavoro che è iniziato non troppi anni fa ma dopo aver constatato che di psichiatria ne parlavano tutti ma proprio tutti meno che gli psichiatri no e questa è una cosa che un pochino mi ha mi ha toccato nell'orgoglio in primo luogo in secondo luogo è perché ho iniziato ad approfondire il tema più generale della comunicazione no la comunicazione in sanità in medicina non solo in psichiatria che è un tema invece molto critico è un tema che abbiamo visto ultimamente che ha toccato la popolazione ha toccato le conseguenze addirittura di una pandemia no una comunicazione non adeguata ad esempio nell'ambito pandemico è a mio parere responsabile di una non completa vaccinazione della popolazione di una non chiarezza che la popolazione ha sullo stile di vita da mantenere in corso di pandemia eccetera insomma abbiamo sentito tanti medici che parlavano si litigavano si azzuffavano ma pochi molto pochi sapevano comunicare hanno confuso il presenzialismo con la comunicazione ovvero con l'essere efficace nel far arrivare un messaggio alla gente che fosse un messaggio di valore ok questo è legato a un fatto molto semplice che sia che tu fai il medico che fai il notaio che fai il garzone il fabbro nessuno dalla dall'elementari al più alto grado di specializzazione universitaria ti insegna realmente a comunicare questo avviene non solo in professioni diciamo non so l'ingegnere che uno immagina che non abbia così importanza la comunicazione non è così chiaramente ma può essere che uno abbia questo pregiudizio ma in medicina assolutamente in psicologia no c'è tanta attenzione a tutto quello che l'aspetto metapsicologico ma poco poca attenzione alla declinazione di queste informazioni teoriche metapsicologiche poi con il paziente no ci sono degli psicologi che sono dei grossi incompetenti rispetto alla comunicazione sia nell'uno a uno sia nei piccoli gruppi che nella comunicazione online in realtà poi la comunicazione è una l'essere efficace nella comunicazione se uno lo acquisisce bene ad esempio nel digitale poi tu puoi essere anche molto ben comunicativo con gli altri anche nella relazione una una no tu lo andrea non posso immaginare che tu non sia efficace nel comunicare non so durante una consulenza o con un tuo amico o con tua moglie perché la comunicazione è una qualità che ha dei basamenti comuni alle varie poi forme in cui uno declina quindi ho iniziato a fare questo lavoro per comunicare con inizialmente con i pazienti quindi per fare in modo di fare quello che si chiama psicoeducazione cioè la mia intenzione era quella di far arrivare le persone al contatto con la sanità che fossero già un pochino preriscaldate per così dire no usando anche un termine del marketing che è molto interessante applicare alcune regole di marketing poi all'efficacia della comunicazione sanitaria no e tenete conto che io lavoro nel sito sanitario nazionale e ad oggi perlomeno fino ad oggi non ho uno studio privato non mi interessa mi interessa fare altre cose non ho tempo che ho extra e devo dire però che funziona molto perché tutte le domande che i pazienti mi facevano io ho iniziato a rispondere lentamente sul web e questo è stato molto utile e questo ha avuto molte conseguenze positive sulla mia professione non so se andrea ti può interessare sapere quali ma banalmente se io domani ne parliamo dopo perché se non mi bruci una domanda e insomma sarebbe un peccato averne tre e averne già una bruciata mi dispiacerebbe quello che però voglio sottolineare è il fatto che tu abbia iniziato il tuo canale di comunicazione dove non l'abbiamo detto scusate l'ho dato per scontato dicendo la tua professione dove ti occupi prevalentemente di aspetti legati alla mente e alla psichiatria alla salute mentale alla psichiatria le neuroscienze perfetto quindi una cosa interessante che tu dici io ricevo delle domande ricorrenti queste domande ricorrenti posso darle come risposta online e questo qua mi toglie un sacco di perdita di tempo nel dire sempre le stesse cose che attenzione suppongo io non è tempo tolto alla relazione col paziente ma è anzi tempo che poi io posso dedicare proprio alla relazione col paziente perché se io già ti faccio vedere il video dove ti spiego le basi dopo a questo punto io posso rispondere alle domande specifiche non devo ogni volta partire dalle basi e raccontarti come funziona una cosa piuttosto che un'altra ma posso dedicarmi invece in maniera più raffinata alla relazione con te esattamente quello tolto gli aspetti generali del discorso e la possibilità di entrare nel merito col paziente con le caratteristiche specifiche del suo caso e quindi avere come dire un po di lavoro già fatto e dedicarmi in maniera ancora più efficace se possibile ad ascoltarlo per quello che è il suo caso specifico poi tenete conto di una cosa una grossa area di aiuto ai pazienti che hanno disturbi psichiatrici è quella di riuscire a far arrivare dei messaggi precise importanti ai familiari ai caregiver quindi tutti quelli che sono intorno al paziente e questo è nuovamente un modo molto buono tramite il digitale di arrivare a queste persone che sono coinvolte attivamente nel processo di presa in cura di un paziente e aggiungo ulteriormente che quando ci troviamo di fronte una persona in tutti i contesti immagino che in quello medico lo sia ancora di più c'è anche una componente emotiva da parte dell'altra persona che potrebbe far recepire o meno il messaggio che gli stiamo passando e quindi forse è utile alcuni di questi messaggi metterli nero su bianco metterli su pellicola virtuale digitale in modo che poi l'altra persona possa fruirne nel momento in cui lo ritiene più comodo per sé più utile per sé magari addirittura riguardandolo più volte e assicurandoci per quanto possibile per quanto questa cosa ovviamente dipende da dallo spettatore o dalla spettatrice che il messaggio passi nella sua interesse nella sua interezza e correttamente però 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 io immagino alcuni tuoi colleghi al tuo e alcune tue colleghe magari quelli più agé che ti possono fare due critiche e queste due critiche a mio parere possono essere numero uno ma facendo questa cosa non rischi di perdere autorevolezza visto che il ruolo del medico è comunque anche un ruolo istituzionale che deve mantenere suppongo io la critica un certo distacco e l'altra cosa che ti chiedo è se non si rischia di banalizzare troppo alcuni argomenti o di semplificarli troppo quando in realtà sono molto complessi e difficili da comprendere per le persone comuni sono ottima domanda e queste due due domande in realtà sono molto correlate in realtà succede esattamente il contrario nel senso che la possibilità di entrare nella vita nella quotidianità delle persone tramite dei video dei podcast o degli articoli quindi quando uno fa delle ricerche organiche va alla ricerca di alcuni argomenti e a mio parere ha alzato la mia credibilità e la mia autorevolezza sicuramente nei confronti delle persone a cui io tengo che sono i pazienti sui familiari ma questo non solo in realtà ha alzato la mia autorevolezza un po in generale perché quello che sta accadendo è che il lavoro in sanità e medicina non sarà un lavoro non avrà per sempre le caratteristiche che aveva fino a qualche anno fa ci saranno nuove professioni che entreranno in campo ok e una di queste professioni e ormai questo è lo do per consolidato è proprio quella della comunicazione digitale della salute ok perché si è visto che un servizio funziona meglio se le persone appunto come accade nel marketing accedono al servizio pre riscaldati rispetto ad alcuni argomenti inoltre hanno la possibilità di sviluppare più rapidamente legame bonding no con 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 il servizio e con i con gli operatori del servizio se vedono che queste persone si abbassano a un livello della popolazione generale uscendo da questa torre d'avoro che non ho capito bene chi ci ha messo che di fatto è una protezione ok quindi non c'è un abbassamento in realtà è semplicemente un scendere dal piedistallo arrivare al livello delle tutti è una delle motivazioni perché io raramente mi vesto da medico fra virgolette no ho visto che il modo migliore se voglio capire bene cosa ha una persona nella testa e non mettere in difficoltà non fargli pressione non giudicarla non fargli capire che io sono l'esperto che ho davanti una persona che non sa nulla anzi invito le persone a documentarsi completamente all'inizio degli anni 2000 dicevano dottor google rovinerà la medicina è stato il contrario dottor google ha fatto in modo che i medici diventassero più competenti per rispondere alle domande giuste che i pazienti fanno perché ricordiamoci che fino a prova contraria in tutto il mondo c'è un gesto eticamente molto importante che il consenso informato cioè io devo fare qualche cosa sul tuo corpo sulla tua mente di cui tu sei consapevole ok tu hai diritto a ricevere da me una diagnosi che comprendi e hai diritto a ricevere da me un trattamento che comprendi ok sono due cose che sono in antitesi al modello al paradigma medico di qualche decina d'anni fa in cui c'era il dottor tersilli poff poff cincinzi o aristide non so se vi ricordate no quel modo di fare scandaloso schifoso di alberto sordino che ha però guidato la mano di tantissimi medici e di tanti psichiatriano ok quindi l'obiettivo è quello di avere un approccio etico alla persona e quando una persona è trattata bene eticamente in maniera accogliente buona beh non si può che guadagnarne i suoi occhi ok e l'istituzione non può che guadagnarne è un conto se io vado a fare i balletti su tiktok ma se io mi metto a parlare di schizofrenieri disturbi polare e spiego alle persone argomenti che in realtà e qua mi riallaccio alla tua alla seconda parte la tua ormanda non sono poi così difficili o per meglio dire ci sono vari livelli noi come sistema operativo di un computer io posso decidere di capire come è scritto il codice in c oppure posso semplicemente diventare bravo ad accedere a word a powerpoint alle cartelle no queste sono due cose molto diverse c'è un livello dell'informatica che tutti possono capire e poi c'è un livello sotto il cofano in cui effettivamente le cose si complicano e anche molto però ricordatevi una cosa che io non conosco tantissimi neanche psichiatri che sanno bene cosa c'è sotto il cofano ricordiamoci quello e qui sì che la mia divisa mi aiuta a proteggermi perché se io mi sproteggo allora io devo rispondere alle domande ok e le domande alcune che fanno le persone fra virgolette normali sono domande molto complesse e che trovano molti psichiatri impreparati che alle volte si trincerano su è troppo complicato non vado avanti ok segua la mia prescrizione ordine medico beh questo è roba del passato la medicina moderna che vedere con la possibilità che il medico abbia di comunicare nella maniera migliore possibile una diagnosi una terapia basata sulle evidenze e non sulle sue opinioni questo è molto importante e che un paziente la capisca bene a qualunque livello di cultura ci sia e in comunicazione purtroppo le cose non stanno come i medici pensano i medici pensano che se io tiro una freccia comunicativa e non prendo il bersaglio sia il bersaglio che si è spostato no questo nella loro testa invece non è così siamo noi che abbiamo l'arco e la freccia se io sbaglio il bersaglio cioè se io non sono bravo a comunicare la colpa è sempre e comunque mia guarda interessantissimo valerio io prendo simbolicamente una tua frase quando tu dicevi i medici hanno paura che google rovini la medicina o avevano paura che google rovinasse la medicina e la verità è che il compito della realtà non è quello di essere giusta il compito della realtà è quello di essere ciò che è e allora noi possiamo guardare la realtà che ci circonda con oggettività riconoscerla e capirla oppure possiamo rimanere a ah ma non dovrebbe andare così e se invece riconosciamo la realtà per quella che è oggi la realtà è che le persone si informano online e si informano online anche in maniera molto attiva a volte anche a sproposso e fanno bene e a questo punto andrea lasciami dire che preferisco che trovino i miei contenuti e non quelli di scientologi che dice che i psichiatri sono tutti scemi e sono l'industria di morte no se la realtà che io voglio la voglio in una certa maniera sono io che devo governarla no perché sennò poi la subiamo se io invece decido di governarla e voglio fare in modo che le persone non pensino che i psichiatri sono degli stronzi che riempiono di me sono io che devo produrre quei contenuti ok è proprio così cioè noi possiamo governare quello che ci circonda cercando di prenderne il positivo riconoscendone anche il negativo i rischi e i limiti oppure possiamo subirlo in maniera passiva mi fanno sorridere magari anche una cosa corretta però ci sono tanti medici oggi e l'ho vissuto anche personalmente che ti dicono guardi lei ha questo questo e quest'altro ma mi raccomando non lo cerchi su internet e lo capisco perché se penso a mio padre che cerca la tale patologia su internet ciao apriti cielo ci sta non è che voglia criticare questa cosa che fa anche sorridere e che posso comprendere però ti fa un po' capire qual è l'atteggiamento generale e a questo proposito puoi spiegare puoi spiegare perché nel senso certo l'ideale sarebbe che lo stato portasse attenzione a insegnare fin da elementari in qualche maniera al metodo scientifico alle persone cosa che ovviamente è fantascienza per il momento però un medico ti garantisco che io ho insegnato a simpatiche signore di 85 anni cose che davvero vengono ritenute complicate ma in realtà dipende non da quanto sei fenomeno ma da quanto tempo dedichi alle persone perché alle volte ci vuole un po' più di tempo se vuoi fare il tuo lavoro in dieci minuti non fai neanche il gommista in dieci minuti ok quindi avere passione per le altre persone avere passione per la comunicazione e investire del tempo negli altri che è il lavoro che dovrebbe fare il medico perché tutte le altre qualità del medico tra qualche anno verranno sostituite dalle macchine fare diagnosi e terapia tramite un computer io ho visto dei software delle bm che ti analizzano la voce e in 300 battute ti dicono e ci azzeccano se sei psicotico no capisci a quel punto cosa rimarrà precipuo cosa rimarrà l'aspetto principale cardine della professione del medico la comunicazione no sarà quello l'aspetto più grosso e abbiamo un commento nella chat che dice lo cerchi pure su internet anzi le do io i siti adatti e si pubblicizza valerio rosso tra l'altro e a me viene da dire cavoli immaginiamo un mondo in cui un medico potrà permettersi di dire non più signora non lo cerchi su internet mi raccomando ma che potrà permettersi di dire signora questo è il mio sito web li trova tutte le informazioni che le servono rispetto alla patologia che le ho diagnosticato se ha dei dubbi ulteriori mi raccomando alzi il telefono e mi chiami domanda numero due valerio domanda numero due domanda numero due quella che mi volevi spoilerare io volevo chiederti quali sono i benefici professionali quindi non tanto quelli etici o quelli civili e sociali di fare questo lavoro di divulgazione che mi sono molto chiari e che penso che siano chiari a tutti ma quelli professionali un pochino più tuoi diciamo usando le virgolette un po più egoistici quali sono stati intanto questo lavoro che sto facendo mi ha posizionato fortemente in quella categoria di professionisti che sanno fare la comunicazione online e questa è una roba che al momento sono come si dice in un oceano blu cioè sono uno dei pochi medici perché psicologi ce ne sono tanti avvocati ce ne sono ma i medici non ce ne sono tanti per la semplice ragione come dicevamo prima che il medico è una categoria professionale che ha già uno stipendio garantito in qualche maniera insomma se uno vuole fare il medico tranquillamente va avanti quindi questo cosa mi ha permesso di fare mi ha permesso di essere contattato per essere per parlare a convegni per essere essere intervistato essere indubbiamente pagato anche per parlare a convegni dai convegni medici e quindi non i pazienti non c'entrano più persone che volevano sapere come diavolo facevo a fare le mie cose no e a un certo punto anche ovviamente dicendomi che le stavo facendo bene no c'è voluto un pochino di tempo ma poi in effetti insomma è quantomeno onestamente ecco diciamo poi il riscontro di pubblico è anche buono quindi insomma credo che di starle facendo abbastanza bene sul piano tecnico sicuramente bene sul piano di onestà intellettuale questo è stato il primo vantaggio e poi vantaggi secondari ce ne sono stati tanti ad esempio sono stato chiamato a lavorare per l'industria per alcuni software di che si chiamano terapie digitali sono delle nuove tecnologie che verranno utilizzate presto in medicina cioè software che sono utilizzati per modificare dei comportamenti disfunzionali delle persone e questi software sono basati essenzialmente sulla capacità di comunicare con il paziente che utilizza il software di automatizzare la comunicazione del paziente con il software e fare in modo tramite notifiche e addestramenti psicoeducazione video anche balloon insomma un sacco di cose gamificando anche questi software fare in modo che alcuni comportamenti disfunzionali vengano messi a tacere ok io ho collaborato in con delle alcune industrie su cui due software che usciranno uno sulla riabilitazione cardiovascolare e un altro sulla riabilitazione del paziente con insufficienza renale cronica e quindi ripeto non propriamente psichiatrici però in cui la gestione dello stress la della la capacità appunto di sviluppare una maggiore tranquillità e modificare alcuni stili di vita quindi che ovviamente hanno a che vedere con il coinvolgimento sul piano psicologico erano particolarmente importanti e questa è un'area che verrà sempre più richiesta e questo è legato un po al fatto che io sono un po un nerd quindi so interfacciare sapendo programmare insomma mi occupo abbastanza bene so programmare abbastanza bene in python e in javascript in passato io programmavo insomma su dallo z 80 al 65 02 in avanti io si sono dedicato a questo però avere dei medici che hanno competenze di programmazione quindi sappiano poi comunicare col team di sviluppatori no è una competenza che sarà sempre più richiesta e parallelamente alcune alcune pezzi del nostro lavoro verranno fatti dal software per la semplice ragione che non ci sono sufficienti medici sufficienti professionalità sanitarie per garantire che a tappeto tutta la popolazione possa avere il diritto di ricevere alcuni trattamenti ma se i vantaggi di fare questa cosa online ci sono e sono più o meno evidenti e tu ne hai ne hai raccontati alcuni allora la domanda che ti faccio ti faccio ancora due domande probabilmente collegate la prima è perché non lo fanno tutti cioè perché la maggior parte per non dire quasi tutti i tuoi colleghi le tue colleghe non fanno questa operazione ovviamente stiamo generalizzando perché altri medici che fanno un ottimo lavoro online ci sono per quanto pochi e in maniera un pochino più peperina ti chiedo anche se tra i tuoi colleghi hai anche degli haters cioè ci sono delle persone che non apprezzano in maniera particolarmente viscerale quello che fai ok sì beh interessanti cercherò di risponderti bene in maniera non troppo corretta ok lo apprezzo allora il prima la prima ragione è questa allora c'è una certa forbice fra l'italia e il mondo anglosassone ad esempio in italia questa cosa non ha preso ancora campo perché sostanzialmente se un medico viene accolto nel servizio sanitario nazionale è per sempre quindi non alcun tipo di necessità di sviluppare competenze aggiuntive per così dire alle volte appunto questo non io non lo trovo così positivo pur lavorando in servizio sanitario nazionale nel senso che poi diventa un po' a discrezione del medico la capacità di rimanere costantemente aggiornato di far valere no il proprio lo stipendio per cui veniamo pagati quindi ben diverso nel mondo anglosassone dove c'è revisioni contime nulla è per sempre quando si parla di lavoro si può essere in strutture private licenziati più facilmente si può essere ci si può trovare situazioni professionali molto diverse dall'oggi al domani quindi avere la possibilità che quando uno cerca psichiatra genova no oppure trovare che le persone ci trovino può essere molto utile nel momento in cui non abbiamo un lavoro come dire continuativo chiaramente se uno poi vuole dire viene trovato per parole faccio un esempio io ho la fortuna se tu cerchi linee guida in psichiatria esco io no ed è una cosa che è incredibilmente vantaggiosa perché questa cosa ti può poi portare a essere che ne so se non sono primo sono il secondo però ti puoi essere vantaggioso perché puoi diventare veramente un influencer in alcuni contesti specifici no puoi dire delle cose beh il mio obiettivo in realtà era anche quello perché quando cercavi un passato linee guida in psichiatria usciva Scientology a me giravano le palle e diceva che tutti gli psichiatri ti vogliono avvelenare che faranno solo il tuo male che la psichiatria è un'industria di morte eccetera eccetera a me dispiaceva faceva male io volevo riuscire a raggiungere questo obiettivo no quanto meno poi e quindi questo è un punto importante cioè in Italia non si è così spinti a lavorare in lo sviluppo di competenze aggiuntive proprio per la ragione che i medici hanno la strada veramente un po' spianata un po' facile forse addirittura ecco ma è intrinseco al nostro sistema sanitario nazionale che peraltro è molto avanzato richiederebbe qualche ritoccamento ritoccatina quella e i miei haters sì devo dire che allora parlando di psichiatria uno quindi parlo di elettroshock di contenzione tso insomma di cose che la gente non sapendo cosa sono ovviamente cosa fanno dicono subito delle scemenze nessuno psichiatra è contento di contenzionare una persona di limitare la libertà ma figuriamoci per noi un impegno è gravoso sul piano morale sul piano di legge abbiamo delle noi vorremmo che le cose andassero sempre in maniera diversa ma questo è una cosa che chi mi segue sa come la penso eccetera pur essendo utili in alcuni momenti è chiaramente però cos'è successo poi tutte queste cose qua in realtà non mi hanno attirato degli haters forse legato al fatto che io mi sono veramente messo in gioco in maniera molto onesta molto diretta non ho mai fatto quello che pontificava il professor che non sono chi mi conosce direttamente sono tutt'altro che professore insomma però sono uno che studia quindi ho cercato sempre di far trasparire al meglio di tradurre in maniera più universale possibile le cose che imparavano io studio una cosa e poi faccio un video ad esempio no insomma è una cosa utile anche per la tua formazione e poi è successo invece che ho scoperto che nel momento in cui sbagliavo una virgola dicevo una cosa un pochino sbagliato un dato un filo falsato ma cosa può succedere siamo esseri umani avevo subito delle stilettate feroci da colleghi ok quindi insomma questo è forse anche corretto e poi il leitmotiv ma cosa fai cosa serve come mai alcuni hanno capito perché poi quando ho iniziato a parlare a conveni più istituzionali ovviamente lì le persone fanno retromarcia no nel senso quando nuovamente c'hai davanti c'hai dietro dei simboli che loro riconoscono come autorevoli come le varie società scientifiche eccetera eccetera però in realtà il punto è un altro che effettivamente alcuni non molti pochi miei colleghi mi hanno un pochino trattato un po male in alcuni momenti per questa ragione forse perché la visibilità è giudicata anche come non lo so una deviazione narcisistica sai psichiatria poi noi siamo specializzati nel farci seghe mentali pazzesche quindi indubbiamente devo dire che non ho mai ricevuto nessuna critica negativa dalle persone dai pazienti dai familiari anzi tutt'altro e qualche critica un po più pungente un po più aspera ma sempre meno devo dire col passare del tempo anche perché poi quando poi sono mi sono presentato conosciuto io sono andato a parlare con le persone che mi hanno criticato e le cose sono appianate ecco devo dire senti fammi interrompere un attimo la parte strutturata di questa intervista per salutare ringraziare riccardo riccardo dal ferro ric du fer daily cogito il canale anzi facciamo anche uno è bravissimo lui accidenti che si è appena abbonato con prime al a questo canale grazie abbiamo fatto un weekend strepitoso con con ric e con altri ma lui è proprio bravo è devo dire sì lo è lo seguo ogni tanto è altissima qualità complimenti e credo sia amico di un mio amico che si chiama gennaro romagnoli lo è lo è sono spesso insieme è un altro fenomeno è super bravo te lo confermo e tra l'altro tra l'altro lo porto spesso anche come esempio magari potete seguire il suo canale youtube se siete all'ascolto proprio come esempio di creazione di contenuti di altissima qualità effettivamente questa questa cosa qua degli hater non mi sorprende moltissimo ti dico la verità perché molte volte le persone si arrabbiano quando gli altri raggiungono quella roba che definiamo successo per quanto generico sia la cosa per con delle strade che non sono quella che avevamo deciso noi e magari ci rendiamo conto in qualche modo anche che quella strada è più efficace della nostra che quella roba li funziona e allora ci fa un po' arrabbiare perché ci obbliga anche a mettere in discussione le certezze che avevamo io dico sempre che i veri amici si riconoscono nel momento del successo credo sia sia una verità perché come le altre persone si appropinquano al ma che poi è successo per carità con i nostri buoni risultati insomma in qualche ambito come le altre persone si appropinquano al nostro ai nostri buoni risultati la dice lunga su quanto bene ci vogliano su quanto siano legati a noi insomma vero domanda numero tre nonché ultima di questa di questo tristi domande a questo punto uniamo e sono sicuro che così che tu abbia convinto diversi e diverse tue colleghe che quello che fai è bene e che in tanti dovrebbero farlo e allora io ti chiedo di dare qualche consiglio quindi se oggi c'è all'ascolto un medico che che sta che che sta che pende dalle tue labbra che cosa gli consigli riponiamo che non abbia ancora cominciato e che non abbia la più palida idea di che cosa fare quali quali sono i consigli che ti senti di dargli per cominciare allora i consigli io posso dire cosa ho fatto io che è l'unica cosa su cui sono in effetti veramente autorevole cioè me stesso la cosa che ho fatto io è stata quella di riportare alla luce alcune passioni che avevo rimetterle un po in sesto ripristinarle eh organizzarle tra di loro e poi eh orientarle verso un unica chiamiamolo un unico obiettivo no senza essere troppo dispersivo eh io in passato ero appassionato appunto di digitale di computer insomma sono te l'ho detto sono veramente un nerd della prima ora insomma sono del settanta io 1970 sono nato quindi mi sono fatto tutta l'ondata degli dal in casa ci avrò non so avrò boh 20 apple dal dal 2 plus in avanti ce li ho ottenuti tutti no la mia collezione quindi ho ripreso le mie competenze eh sul sul digitale chiamiamolo quindi imparare gli aspetti comunicativi specifici del digitale lì mi ha appassionato quindi la seo iniziare a capire come come si costruiscono no come si scrive il copywriting come si scrive sul web eccetera cose di questo genere poi ho iniziato a capire che c'era un denominatore comune ehm che era quello più generale della comunicazione nelle attività che volevo fare cioè se io voglio eh provare a far passare dei messaggi alle persone devo essere efficace nel mio essere comunicativo no e quindi l'esempio che ti faccio prima della freccia è quello io ero uno di quei medici che dicevo i pazienti non capiscono mai niente ok e lì mi è stato molto d'aiuto avvicinarmi a una tecnica che si chiama colloquio motivazionale eh motivational interviewing eh di rolni insomma è una è un è un approccio anglosassone alla comunicazione che gli altri è una comunicazione che in realtà è è stata ideata per chiunque no sia per i counselor per i psicologi per gli psichiatri è trasversale per così dire no e mh io applico spesso i diciamo le regole del colloquio motivazionale in ogni tipo di comunicazione che faccio cioè cerco sempre di essere di muovermi in maniera aperta insomma ci sono alcune regole che 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 cerco di seguire e questo devo dire che l'ho applicato sia nella comunicazione nel mondo reale quindi nella comunicazione nell'uno a uno non nei piccoli gruppi eh poi nei gruppi più ampi poi fino ad arrivare quando se quando siamo in live non so quante persone ci sentono ma cercare di essere eh a mio agio efficace anche nei grossi gruppi ok quindi essere anche attento all'interplay con te insomma quando tu mi parli io devo stare zitto quando no quelle cose che poi pian piano uno acquisisce però c'è anche modo di impararle no non è vero che si imparano semplicemente facendole anche facendole ma c'è un po' di teoria che a mio parere conviene approfondire ecco quindi è un pochino quello che io consiglierei consiglierei di ampliare di espandere le competenze trasversali no? Eh quelle che sono in realtà che ci definiscono nel lavoro che facciamo no? Io non mi sento uno psichiatra in realtà e basta forse neanche proprio io mi sento la somma delle competenze che ho in qualche maniera no? Eh non delle passioni perché le passioni sono anche io se l'ho detto sono un musicista io potessi schiacciare un bottone vorrei diventare che ne so Alan Oldsworth il mio chitarrista vorrei fare qualcosa ma non sono bravo ok anche lì uno deve fare un pochino un ragionamento in che cosa una persona è brava e quali sono gli ambiti che posso provare a espandere e per poi essere efficace in quello che farò quindi io ho scoperto che alcune competenze l'avevo alcune sono stato particolarmente veloci ad apprenderle no? Le ho messe insieme bene e mi sono fatto qualche domanda visto che questa cosa reggeva e allora poi mi sono buttato in questa direzione che sostanzialmente non saprei come diciamo sul web sono uno psichiatra ecco dovessi dare una mia posizionamento direi che sul web sono uno psichiatra che aiuta le persone a migliorare la salute mentale evitando di perdere tempo qui e là no? Con notizie poco chiare o semplicemente sbagliate divulgando le migliori informazioni che le neuroscienze ci mettono a disposizione questo è il mio è il mio è il mio è il mio posizionamento no? E per fare questo ho usato delle competenze trasversali che ho affinato fondamentalmente quello che hai fatto è stato unire i puntini tu come la maggior parte degli esseri umani hai tante competenze e tanti interessi hai diverse passioni hai diverse inclinazioni e quello che sei riuscito a fare nel tuo percorso questa è la mia sensazione è stato prendere ognuno di questi elementi e riuscire a unirlo agli altri con coerenza che è una cosa che non si fa da un momento all'altro che è una cosa che si fa con gradualità magari tu adesso dico una cosa a caso iniziato a comunicare online e non avevi delle competenze tecniche però sei un nerd allora hai preso quella competenza l'hai messa hai unito il puntino al disegno e hai imparato l'aspetto tecnico poi parliamo della parte di comunicazione poi di tutto il resto e credo che questa cosa qua di unire i puntini sia forse in assoluto molto bello il tuo consiglio valerio la cosa più preziosa quando comunichiamo online scusami una cosa velocissima io consiglio se volete farvi due risate andate a vedere il mio primo video sul mio canale youtube è una cosa che mi faccio tenerezza da sole fantastico l'ho tenuto perché per me è veramente lo tratto come un pulcino lo guardo con tenerezza tipico tipico ma guarda tutti cioè se non ci vergogniamo del nostro primo video su youtube c'è qualcosa che non va effettivamente e così per tutti e a questo proposito colgo la parla dal barzo per darvi anche io un consiglio se oggi volete incominciare a comunicare online il mio consiglio è prendete spunto e non prendete spunto dal lavoro che fa valerio rosso mi spiego meglio prendete spunto da alcune cose ma per il momento se avete appena cominciato accantonatene delle altre che cosa voglio dire per esempio valerio ha un setup che è estremamente professionale questa cosa è un'ottima cosa se si vuole comunicare online ma non è necessaria quindi non commettiate l'errore che vi serve avere quel microfono di freddy mercury quella telecamera quello studio per poter comunicare online è sufficiente un telefono se proprio volete esagerare con un treppiedi o con un supporto che lo tenga dritto in modo che non lo dovete tenere in mano quello è tutto quello che vi serve per cominciare dopodiché al al setting di valerio ci potete arrivare ci potete arrivare col tempo se lo desiderate ma non è quella la condizione iniziale a cui si deve aspirare un'altra cosa da cui che non dovete prendere spunto da valerio è la sua capacità espositiva cioè nel momento in cui voi oggi farete il primo video non sarete bravi e bravi come valerio non sarete neanche paragonabili a valerio e va tutto bene esattamente così che funziona piuttosto andate effettivamente a guardarvi il suo primo video e allora è lì che magari vi direte ok però tutto sommato c'è speranza per tutti ora suppongo perché di solito i primi video per tutti di tutti sono veramente orribili quindi non aspettatevi che voi domani comunicate online e siete bravi quanto lui che lo fa da quanti anni? 3 anni circa 3 anni fra tre anni se lo farete con costanza sarete bravi come lui ma è così che funzionano le cose nuove cosa invece dovete prendere spunto a mio modesto parere da valerio? Beh secondo me la cosa più importante quando si comunica online che credo che sia un tratto un po' comune del canale di valerio e del mio ovvero lo scendere dal piedistallo io mi rendo conto che è complesso che lo è ancora di più per alcune professioni e che lo è ancora di più quando siamo fuori dal nostro ambiente sarebbe da dire la abusata abusatissima zona di comfort cioè se noi usciamo da quella zona e ci troviamo un pochino spaesati a guardare una telecamera che è un oggetto morto e che non siamo progettati a cui non siamo progettati rivolgerci capisco che quella roba lì possa spaventare capisco che come difesa noi tendiamo magari a mettere un po' più di distanza e lo facciamo professionalizzando per certi versi il nostro modo di parlare beh il suggerimento che io vi do è cercate di abbassare il più possibile e di semplificare il più possibile ciò che dite usate le parole più semplici che vi vengono in mente trovate il modo più facile per dire le cose e se avete il sospetto che una parola non la capirebbe un bambino di cinque anni beh il consiglio che mi sento di darvi è cambiate parola usatene una che potrebbe capire un bambino delle elementari e molto probabilmente starete facendo la cosa giusta parole sante ci sono delle cose che vogliamo aggiungere a questa chiacchierata abbiamo dimenticato tralasciato degli elementi utili ai tuoi colleghi dovessi dire un'ultima cosa un po' naif mi rendo conto ma è quella di non perdere mai un pizzico di spirito d'avventura nella propria professionalità perché rimanere ingessati il lamentarsi no di qualche cosa è qualcosa che caratterizza tutte le professionalità anche il medico che in teoria può sembrare una classe magari privilegiata per alcuni aspetti io sento tanti colleghi lamentarsi di tutti i tipi non mi piace il mio lavoro non è troppo pesante poco pesante i pazienti non capiscono la gente ci aggredisce la gente ci denuncia spirito d'avventura cambiare le cose governare il cambiamento piuttosto che subirlo è una cosa che riguarda tutti i medici inclusi fantastico valerio senti descrivici bene quali sono i posti dove ti troviamo così veniamo a prendere spunto e a carpire le tue capacità ok i posti online perché nel mondo reale io sono nell'asla di cuneo e non chiamatemi perché ricevo telefonate da tutta italia quindi perché poi mi c'è quindi però è perché io non faccio attività privata ecco questa sarebbe una roba oggettivamente che potrebbe essere utile per molti medici uno ha una esponenziale aumento delle richieste chiaramente cosa che a me non interessa perché io al momento non faccio attività privata i canali digitali invece quelli a cui tengo di più sono il mio canale youtube che me lo sto coccolando bene quindi se vi capita di essere interessati a queste tematiche iscrivetevi il mio blog che valerio rosso cercate su youtube ma vedrete che mi trovate velocemente il mio blog sto iniziando a fare qualche cosa su twitch ma non sono esperto e guarderò ecco lasciami dire una cosa andrea che tu sei diventato nelle ultime settimane da quando abbiamo insomma iniziato i nostri contatti il mio guru lasciami usare questa parola il mio guru della tecnologia digitale per comunicare e ho capito davvero tante cose e ti ringrazio pubblicamente per il lavoro che fai grazie poi altri canali sono su instagram è una trappola dove cerco di farvi cadere per seguirmi sempre di più grazie comunque no beh devo dire che a me hai dato tantissimo valore sui tuoi canali e l'ho apprezzato e me ne sto appropriando quindi grazie e quindi insomma i soliti canali youtube il mio blog valeriorosso.com facebook e instagram dove sto iniziando a crescere un pochino anche lì super super grazie mille vi ricordo poi che i link di valerio li trovate tutti nella descrizione di questo episodio di questa chiacchierata che abbiamo fatto io vi ringrazio per averla seguita fino a qui ringrazio voi che ci siete stati se avete delle domande delle cose che volete aggiungere alle nostre riflessioni fatele pure nei commenti se siete dei medici mi raccomando commentate con il vostro punto di vista potrebbe essere interessante chi lo sa magari fare scaturire un'altra un'altra di queste chiacchierate e super grazie a te valerio grazie andrea è stato piacevolissimo e molto interessante grazie a presto